Mi appoggiai al caminetto nauseato, nauseato, pensando al mio insuccesso, fissando l'abisso, debole per quel caldo di mezzogiorno, la campana di una chiesa mesta lontana, il pianto di un bambino, la tosse di Johnny Arnel nel suo letto, con la febbre, la febbre, morì fondo, poi la voce violenta di mia moglie, fai attenzione, bruciano le patate, lo sentivo dall'odore, allora ci fu un disgusto irresistibile, spinse il grilletto, buio, luce, un rimorso indescrivibile, Brancolai per tornare nel mondo, troppo tardi, così venni qui, con polmoni per respirare, ma non si può respirare con polmoni, sebbene si debba respirare anche qui, a che serve liberarsi del mondo, se nessun'anima può mai sfuggire all'eternità del proprio destino.